Ma vediamo ora con Francesco Di Mario le novità fiscali decise oggi dal governo. Aumentano in legge di bilancio le risorse contro il caro bollette dell'energia. Per aiutare le famiglie attenuando i rincari saranno disponibili 2 miliardi e 800 milioni di euro per il primo trimestre del 2022. Al totale si arriva aggiungendo allo stanziamento iniziale 800 milioni ricavati dal minor costo della riforma fiscale l'anno prossimo e da altri fondi. Sulle tasse si prepara una riduzione strutturale da 8 miliardi, 7 per tagliare l'IRPEF e soprattutto ai redditi sotto i 50 mila euro, uno per diminuire l'IRPEF alle imprese. Le aliquote IRPEF dovrebbero scendere da 5 a 4. A sostegno dei redditi più bassi fino a 35 mila euro arriva poi solo per il 2022 un miliardo e mezzo per ridurre il cuneo fiscale di mezzo punto percentuale. I sindacati confermano la loro insoddisfazione, non ci sono risposte alle nostre richieste per una vera riforma fiscale e delle pensioni sul contrasto alla precarietà, dice la CGL, orientata a proseguire la mobilitazione in corso senza escludere iniziative di carattere generale. Intanto l'economia continua a marciare a buon ritmo. L'Istat stima una crescita del 6,3% quest'anno e del 4,7% il prossimo in ripresa ai consumi, dice grazie anche all'aumento dell'occupazione. Firmato infine a Palazzo Chigi l'accordo governo Anci che nella cornice del PNRR garantirà più assunzioni e fondi ai comuni.